La conferma è giunta in modo forte e deciso, siamo al cospetto di una grande squadra. La bionatura Nottorini-Capanno risupera anche il Giorgione Treviso in uno scontro tra titani e si qualifica per la Final Four di Coppa Italia di B2 femminile 28-31 marzo, dove troverà Cus Siena, Napoli e futura Busto Arsizio. Partita vibrante e ricca di emozioni, nonché di colpi di scena, quella vissuta e giocata in un palapiaggio agremito come non mai. Del resto l'impianto dimostra di essere troppo piccolo e angusto per poter ospitare tutti gli appassionati di volley e di Nottorini. Stavolta la squadra di coach Becheroni, capolista in battute e dominatrice del Gironè, si trova di fronte al Giorgione Treviso, che a sua volta in stagione non ha ancora conosciuto l'onta della sconfitta. Avversario difficile e forte, tosto, quasi granitico. Ma la Nottorini parte meglio e grazie ad una sontuosa Sofia Renieri, alla fine 26 punti per lei, si aggiudica i primi due set col punteggio di 25-21 e 25-22. Ma la squadra di coach Carotta non ci sta e nel terzo set si porta subito avanti per chiudere 25-23. La Nottorini si disunisce un po', il quarto parziale è quello meno avvincente, visto che le Venete se lo aggiudicano a 18. Il palapiaggia si ammutolisce e trema, ma questa Nottorini è una garanzia assoluta ed infatti il Tebrec non ha storia. Ancora Renieri sugli scudi, ma anche le compagne ad esaltarsi per un quinto set strepitoso e senza storia, che finisce 15-5 a favore delle Capannoresi. Vittoria importante, qualificazione alla Final Four di fine marzo, dove lo squadrone bianconero promette ancora scintille e tante altre cose.